vai ormai si va avanti di inerzia penso di non avere nessun altro termine onestamente se non questo qui perché fondamentalmente è ciò che sta capitando si va avanti di inerzia aspettando il giorno dopo per vedere di fatto che cosa di nuovo esce e stop né più né meno la situazione ormai è questa qui solo che poi puntualmente di giorno in giorno ci sono degli eventi delle piccole cose che ti fanno dire ma porco giuda un minimo anche in questo caso un minimo neanche tanto neanche ovviamente da chiedere la luna ma semplicemente un minimo ma in cuor tuo sai sei conscio sei consapevole del perché vengano scritte certe cose in certi contesti e in un certo modo quello più banale è quello della vendita che altrimenti con titoli o prime pagine diverse sarebbero decisamente inferiori e dallo stesso tempo anche per in un qualche modo no creare un clima abbastanza importante come se non lo fosse già indubbiamente e in questo caso per forza di cose mi devo riferire alla gazzetta dello sport e a quella che è stata la prima pagina di oggi ma prima di entrare nel merito ragazzuoli come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace cosa giusta cosa doverosa e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale perché andando avanti di questo passo avrete effettivamente poco tempo a disposizione per poterlo fare quindi voglio dire usufruite di questa momentanea possibilità detto questo la prima pagina della gazzetta dello sport dove io posso capire che in un momento come questo qui a maggior ragione dove non c'è la serie a e i mondiali comunque non prendono come prenderebbero se ci fosse l'italia o come se c'è il campionato tu devi trovare in un qualche modo la la possibilità di vendita con magari anche titoli prime pagine più che altro più che titoli prime pagine accattivanti che possano indurre ad acquistare il giornale vedendo ciò che c'è scritto ed è un qualcosa che prende perché se per esempio la prima pagina della gazzetta dello sport è paura juve la juventus stessa ammette che c'è il rischio di esclusione dalla champions league e dalla serie a magari no tu sei voglioso di sapere il perché o perché sei giuventino e quindi dici cavoli ma aspetta che cos'è che è successo che cos'è che ha scritto la juventus e magari non sei particolarmente avvezzo ai social network e quindi magari hai proprio la possibilità di vedere quella che è stata più che altro nella giornata di ieri la relazione finanziaria della juventus o perché magari se gli anti juventini dici olè aspetta io intanto questa prima pagina me la prendo chiamo già quello che mi deve vendere la cornice e magari in un futuro procederò a incorniciarla che io sono sincero cioè sono sincero banalmente basta leggere la relazione finanziaria della juventus tanto i rischi sono proprio nelle prime pagine e la juventus effettivamente dice che come rischio c'è effettivamente anche questa possibilità solo che manca un piccolo cavilo giuridico rimanendo sempre a tema per ciò che sta succedendo negli ultimi dieci giorni e che la juventus da società quotata in borsa è obbligata a scrivere all'interno della relazione finanziaria tutti i possibili rischi per ogni possibile contesto ci sono per esempio anche i rischi per quanto riguarda l'infortunio di un giocatore cioè a momenti ci sono i rischi di che cosa possa accadere se qualcuno dovesse svegliarsi con un cagotto all'interno di ogni qualsiasi relazione finanziaria dato che ci sono anche dei rischi dei possibili rischi remoti un pochino più facili no indubbiamente ci può stare che ci sia il rischio di un'esclusione dalla serie a come il rischio di un problema fisico sono dei rischi ovviamente differenti sia a livello di gravità che soprattutto a livello di possibilità e soprattutto una cosa anche molto importante è che la juventus sempre mette tutti i rischi e sempre c'è anche il rischio dell'esclusione della serie a se si dovessero verificare determinati eventi la parte riguardante questo rischio non è che sia stata inserita oggi e tutti gli altri anni no ma non è che lo dico per dirlo lo dico perché banalmente anche se qualcuno non ci dovesse credere basta che vada a riprendersi le relazioni finanziarie degli anni passati e per pure strana coincidenza troverà tutti gli stessi identici rischi perché all'interno di una relazione finanziaria se sei una società per azioni quotate in borsa lo devi inserire punto cioè né più né meno infatti non ho capito perché cioè in realtà l'ho capito o quantomeno lo suppongo il perché la gazzetta abbia sentito la necessità di mettere in prima pagina un rischio presente all'interno della relazione finanziaria cioè è come se avesse messo uh nella relazione finanziaria della juventus emerge il rischio di tante infortunie lo deve fare cioè semplicemente è quello il il discorso né più né meno poi posso capire ovviamente che in questo periodo scrivere paura juventus anche la juventus ammette che c'è la possibilità di esclusione dalla serie a e dalle competizioni come scritto appunto nella relazione finanziaria ma perché lo deve scrivere faccia indubbiamente più scalpore in particolar modo in questo periodo qui però non la vedo molto come informazione questa la vedo molto più come aizzare le folle aizzare il popolo andando a scrivere cose di questo genere che poi uno giustamente può dire sono state effettivamente scritte beh sì come è obbligatorio farle all'interno di una relazione finanziaria di una società sportiva quotata in borsa e va bene così ecco se c'è bisogno di questo per vendere un qualcosini più cioè va bene mi fa piacere per loro però non è proprio grande giornalismo ecco mi sento di dire solamente questa cosa qui ma ok siamo stati abituati sia in passato che proprio negli ultimi giorni e ci stupiamo tutti quanti fino a una certa questo indubbiamente ci mancherebbe altro però non è mai malvagio secondo me chiedere una certa professionalità però va bene così va bene così tanto alla fine la situazione quella è e quella rimane se la juventus avrà effettivamente combinato un qualcosa di più o meno grave lo decideranno le sedi competenti negli ultimi giorni stiamo sentendo parlare tanti avvocati tanti avvocati dicono cose anche differenti c'è chi ipotizza uno scenario più grave uno scenario un pochino meno grave e dopo lì che cosa succederà non si sa questo ovviamente lo decideranno le sedi competenti e le persone competenti ecco io capisco che giornali in tutto questo debbano comunque fare informazione debbano riportare con anche indubbiamente il fine di vendere perché è quello anche che a cui mirano indubbiamente però ecco come in tutte le cose ovviamente c'è modo e modo ma sicuramente è un altro paio di maniche questo qui e ci mancherebbe altro detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio tanto per cambiare fino alla fine forza juve Ciao 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 Ciao